amici di youtube ben trovati da marco liguori triste lutto e morta una delle donne più belle di tutti i tempi un vero e proprio mito soprattutto degli anni 80 e 90 e prima di saperne di più prima di scoprire di chi si tratta vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 200 mi piace ne pubblicherò immediatamente uno nuovo seguitemi sulla pagina facebook marco liguori news per non perdervi i video inediti qualche giorno fa ci ha lasciato la supermodella tatiana patiz di nazionalità tedesca con claudia schiffer naomi campbell e sindy crawford è stata una delle supermodelle che hanno tanto spopolato soprattutto negli anni 90 ne ricordiamo anche le partecipazioni ai vari video musicali con george michael ad esempio tatiana patiz aveva scelto di vivere lontano dalla luce dei riflettori ha sempre vissuto in campagna stretto contatto con nature animali e scomparsa a 56 anni in seguito ad un tumore al seno il secondo live di marco liguori con grande dispiacere ricorda la supermodella tatiana patiz scomparsa a 56 anni grazie a tutti